La spiaggia detta dell'aeronautica è una concessione da anni di fatto abbandonata, senza che nessuno la pulisca, senza che nessuno faccia da guardiania, né d'estate e tanto meno d'inverno, e lo sanno tutti. Una terra di nessuno, dove in buona stagione vengono organizzati mini-reve e festini frequentati da chiunque senza regole. Già negli anni scorsi i titolari degli stabilimenti limitrofi lamentavano di dover provvedere loro stessi alla pulizia dell'area, in quanto per i turisti, oltre che per i residenti, vedere tra le spiagge un'area abbandonata, colma di ogni tipo di sporcizia, non è un bel vedere. La spiaggia e lo stabilimento che vi si trova sono diventati un luogo di raduno per chi voglia stare tranquillo e farsi i suoi comodi, non visto. Chi sta usando lo stabilimento come base lo ha massacrato, rompendo gli infissi, deturpando gli arredi, vandalizzandolo e riempiendolo di scritte oscene. Si è già discusso a suo tempo sulla concessione, se sia giusto o meno, lasciarla a chi della stessa, militare o privato o ente pubblico, non si interessi, lasciando il bene andare in malora, o se non sia meglio, revocarla ed affidarla a chi la sappia sfruttare. Befed, il pub di successo tutto italiano, dove trovi l'inimitabile galletto da mangiare con le mani, accompagnandolo con la tipica birra artigianale. Il galletto è sano, genuino ed eccellente, garantito da filiera controllata a Vallespluga e la birra artigianale nasce dall'esperienza di maestri birrai Befed. Befed, presso il Parco Commerciale Clodì per giovani e famiglie, un posto dove puoi sentirti come a casa tua.